Lo scorso 22 aprile aveva aggredito, mordendolo ad un orecchio, un carabiniere in zona tortaia ed adesso è finito nuovamente nei guai perché ha ignorato il divieto di dimora ed è tornato in città. Per un 25enne originario del Ghana senza fissa dimora è così scattato nuovamente l'arresto. Sul giovane pendeva infatti un provvedimento restrittivo emesso dal tribunale di Arezzo dopo i fatti dello scorso aprile. Dopo la condanna però, secondo quanto riscontrato dai carabinieri, il giovane avrebbe ignorato più volte la restrizione tornando in città e non solo, si sarebbe reso autore anche di altri comportamenti aggressivi nei confronti della comunità. Per questo motivo l'autorità giudiziaria informata dai militari ne ha disposto la carcerazione. A seguito di servizi mirati di osservazione in via Vittorio Veneto, le pattuglie della sezione radiomobile ed operativa hanno individuato il giovane che è stato di nuovo arrestato. Adesso si trova nel carcere aretino di San Benedetto.